ragazze sono qui ciao piove manaccia sto tempo allora propongo questo vestito a kimono molto bello scollato a v della susi star quindi stiamo parlando di linea curvi io però l'ho voluto a mettere su questo manichino che non è curvi e taglia 42 44 perché arricciandolo così con una cintura è bello portarlo anche un po ampio un po morbidino no ecco quindi stiamo parlando di un abitino semplice pulito tranquillo di un bel brand italiano quindi vestibilità comode però voglio anche che vediate com'è sulla taccapagni vedete ci sono due taglie prima e seconda questa è la seconda la più grande una seconda arriva a vestire un 52 ok poi abbiamo anche un po di spacchettino laterale vedete aspetta che vi è vicino se si vede eccolo qui spacchettino laterale e sneakers un bel tacchettino se avete una occasione anche uno stivale no ok dopo vedete voi come vi piace meglio abbinare le scarpe quindi semplice pulito il negozio lo trovate anche nero 89 90 il prezzo meno 30 per cento alla cassa ok prendete la calcolatrice infatti il prezzo a casa e vi aspetto negozio tutto il giorno di venerdì domani oggi sabato e domenica 5 maggio sempre con ottime occasioni ottime offerte mi aspetto ciao ciao